Gentili telespettatori, buona giornata. Massimo Giletti mostra delle carte. Lui ha il programma Non è l'arena su La7. Tutti stanno cercando queste carte. Io ce le ho. E incastrano Zingaretti e il Lazio. Non la Lazio, la squadra, ma il Lazio, la regione. Così domenica 11 aprile, domenica sera, nel programma Non è l'arena, promette di fare il botto con alcune inchieste pesanti. In un video pubblicato sui social della trasmissione di La7, il conduttore ha anticipato uno dei temi della puntata di oggi. Il caso Concorsopoli alla regione Lazio, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Uno scandalo che ha scosso il PD e la classe politica, anche nazionale, portando alle dimissioni di Bruschini dalla carica di presidente del Consiglio regionale. I giornaloni hanno completamente omesso questa notizia. Chi l'ha data l'ha messa in fondo nella cronaca di Roma. Roba non importante, invece uno schifo. Giletti dice che tutti stanno cercando questi documenti, sventolando dei fogli, ma senza anticiparne il contenuto. Faranno molto parlare, dice, perché questi sono i documenti del concorso dei miracoli avvenuto nel Lazio e che sta mettendo in grande crisi la regione Lazio. Ci sono tutte le carte per capire cosa è davvero successo a questo concorso. Faremo nomi e cognomi e sveleremo le votazioni che finora sono rimaste segrete. Questa inchiesta fa il paio con quella sul caso di Ranieri Guerra e dal piano pandemico italiano non aggiornato. Nel corso della trasmissione Manarena sulla 7, Giletti rivelerà le chat tra lo stesso Guerra e Silvio Brusaferro e anche la rogatoria con cui la procura di Bergamo chiede all'Organizzazione Mondiale della Sanità di fare chiarezza. I magistrati infatti hanno iscritto Guerra nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato e di false informazioni al pubblico ministero. Guerra era stato sentito come persona informata sui fatti lo scorso 5 novembre quando aveva sostenuto che il piano pandemico, fermo al 2006, non doveva essere aggiornato perché non c'erano state variazioni epidemiologiche né indicazioni da parte dell'OMS. Allora io che non sono addentro a questa cosa del piano pandemico ricordo i giornali quando è venuta fuori questa cosa che l'Italia non aveva il piano pandemico aggiornato che dicevano che dal 2006 doveva essere aggiornato perché era vecchio, obsoleto, obsoleto, non serviva più. Che dal 2006 ad oggi nessun governo si è mai interessato veramente nell'aggiornare. Sì dopo, dopo lo facciamo, è dopo, adesso non ho tempo. È così. Sono passati quasi 15 anni, 15 anni e il piano pandemico non lo ha aggiornato nessuno. Poi se Guerra è andato dai magistrati a dire che non doveva essere aggiornato è una sciocchezza perché tutti sanno che doveva essere aggiornato. Anche quelli che superficialmente conoscono di questo tema sapevano che quel piano epidemiologico andava aggiornato e non era stato fatto da nessun governo. Quindi ci sono delle responsabilità negli anni di tutti i ministri che si sono susseguiti, compreso quel tizio che abbiamo adesso, Roby Speranza. Roby Speranza perché non lo ha aggiornato? Perché non lo ha aggiornato? È il primo ministro del governo Conte 1. Perché non l'ha aggiornato? Perché nessuno gliene fregava niente. Cosa è quella? Piano epidemio. Ma che epidemia? Ma che è sta roba? Avranno detto, no? Epidemia. Ma dai, su. Avranno detto così sicuramente. Dopo, dopo. Adesso non ho tempo. Poi cambiano i governi, eccetera, eccetera. Cambiano le stati, cambiano gli inverni. Cantava Giovanotti e il piano non è mai stato aggiornato nella nostra cara e bella Italietta provinciale. E così. Adesso vedremo su questo concorsopoli. Come funziona? Come è funzionato concorsopoli? Concorsopoli del PD funzionava in questo modo. Tutto legale, eh? È tutto legale. Tutto legale, ma... Ma ve lo spiego, poi voi darete la vostra opinione. Piccolo comune, cinque posti, in palio, concorso. Si presentano in massa, politici del PD, portaborse, eletti di tutti i tipi, si presentano in massa tutti a quel concorso. Si mettono d'accordo. Tutti a quel concorso. Cinque vincono il concorso. Molti di questi cinque che hanno vinto il concorso dicono di no perché il comune è troppo lontano da casa loro, loro avevano partecipato, ma gran parte di quei cinque vincitori, più altri novanta, risultano idonei. Cioè hanno avuto un certo punteggio e sono idonei. Cosa succede? Che la legge dice che se sono idonei tu li puoi prendere in altri comuni. Senza concorso prendi quelli che sono risultati idonei nell'altro concorso del paesino. Quindi poi molti comuni del PD hanno fatto a gara a prendersi quelli che erano risultati già idonei in quel concorso dei miracoli. Così tutti quei novanta idonei alla fine hanno trovato poi delle collocazioni lavorative a tempo indeterminato. Tutti figli, parenti, tutte persone legate a politici o politici stessi, portaborse eccetera eccetera. Tutto legale, però c'è una regia che ha portato a questo concorso dei miracoli. Per questo lo chiamano il concorso dei miracoli, concorsopoli del PD. Hanno trovato il modo legale di far assumere quelli del PD. Sarà veramente legale, nel senso che si ravvedono comunque degli illeciti in un modo di operare di questo tipo? Cioè è legale ma operando in questo modo un'organizzazione che fa questo, non ha dei fini diversi da quello di un libero concorso? Qui già i magistrati stanno aprendo le indagini. Sarà poi compito loro stabilire se questo tipo di condotta legale, però fatta in un certo modo, non rasenta l'illecito. Vedremo che cosa diranno i giudici. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Siamo anche in Facebook e nell'altro canale Tele Italia Seconda Rete. Vi invito ad iscrivervi anche a Tele Italia Seconda Rete perché ancora non ha raggiunto neanche i 6.000 iscritti e qua siete oltre 113.000. Bene, ci sono anche gli abbonamenti al canale. C'è l'abbonamento da un euro e quello da 3 euro, ma è una cosa in più per chi vuole avere dei vantaggi e aiutare anche il canale. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.